Halloween si avvicina, e per prepararsi la notte delle streghe non esiste modo migliore se non giocando qualche buon titolo horror. In questo video vi consigliamo allora 5 spaventosi giochi da recuperare su Xbox One. Partiamo ovviamente con un gioco di zombie, ovvero State of TK2. Il seguito dell'apprezzato titolo, uscito nel 2013 su Xbox 360 e PC, permette di entrare nei panni di un gruppo di sopravvissuti all'apocalisse zombie, alle prese con tutti gli aspetti legati alla necessità di trovare un posto sicuro in cui vivere e reperire risorse. Più ampia e dinamica rispetto al precedente capitolo, questa interessante esclusiva console per Xbox One è davvero unica nel suo genere. Da poco disponibile su Xbox One l'Amnicia Collection comprende due giochi che hanno rivoluzionato il genere horror. Amnicia The Dark Descent e A Machine 4 Peaks hanno infatti introdotto moltissime novità a livello di meccaniche di gioco e di conoscenza del genere stesso, che sono state poi copiate in moltissimi altri titoli, come gli Outlast o Resident Evil 7. Rappresentano quindi un'ottima occasione di avvicinarsi alla serie per tutti i possessori della console Microsoft. We Happy Few è un'avventura affascinante che ci proietta in una società distopica dai tratti inquietanti. Certo, non manca di qualche difetto, ma le storie coinvolgenti e le tematiche trattate riescono a tenere col fiato sospeso per alcune decine di ore. Devil Within ha costituito per molti appassionati un bel ritorno alle origini del genere horror. L'opera di Shinji Mikami ha infatti saputo combinare bene i vari elementi tratti dai principali esponenti del genere, unendo il tutto a un'atmosfera malsana e contorta. Il seguito offre ancora una volta tutto questo, oltre a aree più grandi e aperte da esplorare che rendono l'horror di Bethesda un titolo davvero imperdibile per gli appassionati. Little Nightmares La struttura di Little Nightmares viene sostenuta dal ruolo incerto della giovane protagonista e dalla sua evidente condizione di inferiorità al cospetto di un mondo cinico e apertamente ostile. L'alternanza tra la risoluzione degli enigmi e i momenti di fuga offre poi continui cambi di ritmo, che mantengono sempre alta la tensione del giocatore. E questi erano i cinque giochi che vi consigliamo di giocare ad Halloween su Xbox One. Come sempre vi aspettiamo nei commenti per sapere se il video vi è piaciuto e se avreste voluto vedere qualche altro gioco in questa lista. Grazie a tutti! Grazie a tutti!